Torna la Fiera del Santissimo Crocifisso a Castel di Lama dal 31 agosto al 3 settembre in collaborazione con Coldiretti e Associazioni Allevatori Sagra degli Rispell Stand gastronomici e musiche popolari, esposizione di razze bovine, ovine, spettacoli con cavalli mostra canina sfilata tra torri d'epoca, laboratori per grandi e piccoli, musica dal vivo tutte le sere sabato e domenica concerti. Seguici su Facebook dal 31 agosto al 3 settembre Fiera del Santissimo Crocifisso a Castel di Lama